Stiamo cercando, non ti dirò che un'altra partita, cioè sappiamo che cosa vuol dire giocare contro la Roma, quindi ci aspettiamo una partita difficile, tosta, ma sempre, come ti dico io, curando di lavorare e di portare sul campo il nostro gioco. Un derby, conosciamo alcuni giocatori, loro ci conoscono, secondo me sarà una bella partita, non so se rubisticamente, ma comunque molto intensa e poi, come ti dico io, noi cerchiamo di andare avanti e questo sabato è un'altra opportunità. Siamo davvero bellissimi noi, anche se abbiamo forse superato questo momento abbastanza critico delle cinque partite. Poi spero di una bella partita, sarà comunque divertente giocare contro vecchi compagni di squadra, come Murazzani, Sascha e qualcun altro, forse c'è pure Sergio Fernandes che gioca. Ehm, niente, spero dunque che sia una bella partita e che scordiamo un sacco di pubblico, almeno, almeno ci sarà... Non ci saranno, non ci saranno... Non ci saranno, non ci saranno, non ci saranno, non ci saranno. Spero molto che ci sia una bella partita, spero anche i quali del campo, perché Roma si merita, comunque, un posto di tutto rispetto all'altro tempo. Due, guarda, io. Sì, sì, per Roma, dicevo, Roma in generale, come città? Sì, già sentivi questo tempo? No. Prima derby? No, 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 ma, la derby ogni tanto lo sentiamo comunque, siamo arrivati, cioè quasi tutti in buonissimi rapporti. Quindi ogni tanto usciamo proprio all'ospedale di Angelo, che comunque non sta a Lazio. Comunque sono le ciamiche, quindi... Trova la prossima settimana a fare niente. Cosa pensate, o i giocatori romani, di questi povesi, selezioni rappresentative, sono celebrato sempre di più? Io, personalmente, spero molto nella Celtic League, come volete chiamarla, quando si sa ancora bene cosa faranno. Se faranno queste interregionali, non so come la chiamano, ho sentito che forse solo per 3-4 partite, per 6 partite della Coppa, ma io comunque sono positivo, spero che sia un passo per far migliorare il rugby italiano, che ha gran bisogno di affrontare comunque le partite italiane del capo, non di fare un po' più italiane e comunque non più di via.